E' uno dei sindaci italiani con la più alta percentuale di rielezione, quasi 96%. Salvatore Castrovinci è stato proclamato ancora sulla poltrona più alta di Torrenova al termine di una campagna elettorale in cui ha praticamente fatto corsa a sé. Un nuovo mandato per il primo cittadino chiamato a dare continuità. Neanche io mi aspettavo una vittoria così netta, ma non nelle percentuali, nel numero dei votanti. Hanno votato 3.000 persone, questi sono numeri da record per Torrenova. L'ultima volta con una competizione più sentita ne hanno votato sempre 3.000. Io ho preso 1.978, oggi prendo 2.742 preferenze. Ecco, sono veramente soddisfatto, significa che tutto il Paese ha votato, che tutto il Paese ha voluto darmi un segnale molto forte di continuare su questa strada e sulla linea che finora già abbiamo tracciato. Tutto il Paese che però a questo punto ha grandi aspettative, questa la carica ancora di più di responsabilità? Sicuramente, è una grossa responsabilità. Siamo riusciti nell'obiettivo principale che era quello appunto di unire tutto il Paese e ora tutto il Paese aspetta da noi risposte. Le risposte ci saranno perché ho indossato stamattina questa fascia con la stessa determinazione, con la stessa passione e con la stessa voglia di 5 anni fa. Quindi i risultati non mancheranno.